Siccome si parla spesso di incidenti con coinvolte anche biciclette, di zone pedonali dove le biciclette le volte corrono un po' troppo, so che avete in animo un'idea sulle piazze della città e in particolare su Piazza Unità. L'altro giorno stavano per investire un ragazzino, sai c'è tanta gente in piazza, a questo punto le biciclette in Piazza della Borsa, in Piazza Unità, sto preparando l'ordinanza, saranno portate a mano, cioè uno scenderà, si accompagnerà, poi rimonta sulla bicicletta e va via, ma in piazza si arriverà solo con la bicicletta trasportata a mano. Quindi se non credo anche dei cartelli qualcosa per indicarlo alle persone? Non posso mettere cartelli perché la sovintendenza non mi ripasserebbe mai, poi sarebbe antiestetico, però faremo l'ordinanza e sarete voi che direte che c'è l'ordinanza quando è pronta. Quindi con la bicicletta a mano in Piazza della Borsa e in Piazza Unità? Piazza Unità e in Piazza Verdi. Quindi Piazza della Borsa, Piazza Unità e Piazza Verdi. Tra l'altro abbiamo già gli alberi ancora non completamente allestiti, ma il Sindaco ci dà una novità su quando verrà acceso il Natale, ormai si dice così. Vabbè, hanno terminato questa parte, non tutta la città, ma questa parte, Piazza della Borsa, Piazza Verdi, Piazza Unità, per cui accenderemo venerdì. Quindi venerdì ci sarà la cerimonia classica, no? La cerimonia anche perché con tanti turisti abbiamo un peccato non offrire questa meravigliosa piazza con questo adobbo natalizio.